la verità. Oggi parlerò di un po' di cose che abbiamo fatto, anche noi e il popolo della famiglia, non voglio fare un'enorme enfasi, ma insomma l'attività che abbiamo svolto a Milano in questo fine settimana è stata di enorme rilevanza, la contestazione che abbiamo subito. Mi ha poi molto colpito una puntata di ieri domenica in programma del pomeriggio di Rai 1, lo dico perché vedo Danilo Leonardi e vorrei chiedermi con lui se era mai immaginabile che dieci anni fa a Rai 1 in prima serata, non dico 40 anni fa quando è stato eletto Papa Giovanni Paolo II, ma dieci anni fa se era pensabile che Rai 1 al pomeriggio mettesse in scena, ma neanche dieci anni fa, cinque anni fa, guardate, voglio dire, in scena una gazzarra in cui si celebravano le coppie omosessuali che si spartiscono i figli e il povero prete che era presente è stato massacrato dalla venierda, luxuria, messo in mezzo, noi penso che dobbiamo fare, siamo l'unica voce, sappiatelo, Stampevangelo è l'unica voce che oggi parlerà contro Domenica Inn, non ce ne saranno altre nel mondo della comunicazione, ne parleremo solo noi, dicendo e facendo, parleremo anche del caso del PTF di Milano e del modo con cui i giornali hanno raccontato la vicenda, il PTF Milano, soprattutto Repubblica, falsificando completamente le notizie ed è davvero impressionante per certi versi. Noi oggi parleremo dunque di meccanismi mediatici, siamo a Stampevangelo, parleremo di come i giornali e anche la TV utilizzano notizie che sono in realtà da declinare nella maniera vera, invece di declinarle secondo verità, le declinano secondo ideologia, questo è il tema cruciale della puntata di oggi. Dicevo, siamo stati protagonisti per certi versi a Milano di una presenza, un presidio che abbiamo fatto sulla metropolitana milanese, una sfermata della metropolitana è stata dipinta di arcobaleno e con la scritta pagata da Netflix, questo gigante della comunicazione mondiale, secondo cui Rainbow is the new black, facendo eco alla serie televisiva Orange is the new black, dove i protagonisti sono due lesbiche. Dunque, insomma, tutta la tematica pagata, lo ripeto, da Netflix, tutta la tematica voluta dal comune di Milano giunta di centrosinistra era mettere una sorta di monumento obbligatorio che però era fermata nella metropolitana dove passano tutti i milanesi per forza alla ideologia LGBT attraverso i colori che tale ideologia rappresenta. Quello che è successo al di là della contestazione, della presenza di gruppi organizzati, allora, Repubblica ha scritto, ed è interessante perché c'è il link dell'articolo di Repubblica che mette il primo titolo del pezzo che è stato scritto e non l'hanno modificato, per cui si vede il titolo. Mirko De Carli, che ho visto in diretta, ha il link perché me l'ha mandato lui per primo. L'articolo di Repubblica era intitolato originariamente Adinolfi a Milano contestato dai passanti. Questo titolo riusciva a contenere in cinque parole tre bugie, perché Adinolfi non era a Milano. Adinolfi non è stato contestato, dunque, perché non era a Milano. E quelli che contestavano, in realtà il presidio del PDF, non Adinolfi, non erano passanti, erano gruppi organizzati che erano stati mandati lì apposta dal giorno prima che c'era un cancan sulle varie testate del mondo LGBT per disturbare e non far tenere no. È il titolo completamente falso, è completamente inventato. Perché? Perché il giovanista di Repubblica non c'era, ovviamente. Non è successo che Repubblica ha trascritto ciò che ha visto. No. La lobby presente dentro Repubblica ha mandato la sua velina al giornalista di Repubblica che doveva trascrivere ciò che la lobby indicava senza che il giornalista avesse visto nulla. Il giornalista inizialmente ha proprio scritto Adinolfi contestato dai passanti a Milano. Adinolfi non c'era, non è stato contestato, non erano passanti, erano un gruppo che era venuto deliberatamente per insultare, spintonare, rendere impraticabile il nostro presidio alla metropolitana milanese. Per questo sono intervenute le forze dell'ordine, antiderivata la questura, sollecitata anche da Nicola Di Matteo, la Dola, la Dicos. Vedete, fanno sempre storie sui social, come sono violenti. Andate a leggere la violenza che c'è sotto il post, i due post che ho dedicato ai fatti di Milano il giorno prima e il giorno dopo, e lì la violenza è evidentissima, gli insulti, ovviamente quelli come il solito sulla stazza fisica, le cose più orrende. Non c'è stata mezza riga, Repubblica non ha scritto mezza riga dicendo, oh, tra l'altro ha riportato il post, ha preso il post e l'ha riportato, ma mica ha trascritto gli insulti violentissimi presenti sul post. Quindi il giornalista di Repubblica non ci ha andato, non ha sentito gli insulti di quelli che non erano passanti, anzi i passanti ci difendevano rispetto alle violenze di queste persone, organizzate, lo ripeto. Poi leggeva perché il giornalista di Repubblica ha pubblicato il post che ho scritto io in difesa del PDF Milano, ma non ha mica citato le valanghe di insulti più vergogente della Ticos, è stato con noi dieci minuti, poi ha chiamato il blindato perché la situazione si faceva pericolosa, è andata così, i fatti sono evidentissimi a tutti. Siamo stati lì con un presidio, lo ripeto, non era un'anniversazione, era un presidio, c'è un gazebo, c'era fin troppa gente per un gazebo perché eravamo venti, distribuiamo materiale, siamo stati aggrediti, insultati, è arrivato un agente della Ticos, ci ha protetto, prima lui ha chiamato un blindato perché la situazione era pesante. Allora, se la questione è questa, come si fa a raccontare dicendo flop contestato dai passanti? I passanti ci difendevano il totale contrario di quello che stanno raccontando, di quello che ha raccontato Repubblica, perché gli altri giornali siamo riusciti a uscire sul giorno, su Avvenire, abbiamo fatto poi un'iniziativa con altri frammenti del cattolicesimo politico impegnato al Palazzo delle Stelline con Mirko De Galli, quella iniziativa è andata su Rai3, insomma abbiamo fatto un grandissimo lavoro di comunicazione. Repubblica e le varie testate del mondo LGBT hanno ovviamente invece fatto il lavoro che fa la lobby. Il lavoro che fa la lobby qual è? Non c'è la verità, la verità è cancellata, maiuscolo, minuscolo, come volete. La verità non esiste più, la cancelli e mandi la velina con non l'interpretazione della verità, qualcuno ha detto hanno mistificato, no, con la falsificazione, cioè proprio con le notizie false, completamente false. Il meccanismo mediatico vorrei fosse svelato, d'accordo? Vorrei fosse svelato come funziona. Tu hai un amico ai giornali? La lobby agli amici, ovunque ovviamente a Repubblica, tu usi la lobby per fare propaganda sulla tua posizione contro l'avversario utilizzando il manganello mediatico. Poi questi sono gli stessi che si arrabbiano con Salvini dicendo che è fascista, ma guardate che il meccanismo è fascista o comunista, è la Pravda o il popolo d'Italia, la stessa cosa. È lo stesso tipo di meccanismo identico. Il fatto non lo racconto, c'è una tesi, sostengo ideologicamente la tesi, il fatto lo cancello e lo racconto falsificandolo il dato, vorrei che fosse chiaro. Questo ci spiega anche come funziona domenica in, il giorno dopo, quando tu metti la Francesca Venditti, la lesbica separata, coi figli separati, la storia di Michel Bosè, metti Mara Venier, metti Alba Parietti, metti poi un povero prete, un po' così e lo metti in mezzo e costruisci un bailam sul fatto che quella è una famiglia come le altre, quella di Michel Bosè, cioè una famiglia che prende i fratelli, li spacchetta a secondo della proprietà, li manda uno in Messico e l'altro in Spagna, 5-7 anni e questo è normale, non si può con il fatto che trasformate le persone in cose e i bambini in oggetti di comprovendita. Convince che uno si porta il TV al plasma in Messico e l'altro si porta l'aspirapolvere senza fili in Spagna. Tanto è la stessa cosa, bambino aspira polvere senza fili, altro bambino è TV al plasma. E noi diciamo cose comprensibili a tutti che è in atto una condizione orwelliana in cui la dittatura del pensiero unico vuole far pensare che sia sano ciò che è folle, sia razionale ciò che è totalmente irrazionale, sia giusto ciò che è assolutamente ingiusto. La minia Longobardi che dice mannaggia Mario mi fai sudare, forza e coraggio a tutti voi, ricordiamo la forza innestata in noi stessi da San Giovanni Paolo II, il suo andare ad gentes durante la sua, una volta si sarebbe detto, intronizzazione, il suo insediamento del 22 ottobre 1978, 40 anni fa quando pronunciò le note frasi. non abbiate paura, aprite spalancate le porte a Cristo per poi regarsi davvero ad gentes con la croce innalzata per recuperare, far restaurare in tutti noi anche l'orgoglio, diciamo così, anche il convincimento, anche la piena capacità di essere pronti all'estremo sacrificio per la verità e per Cristo. Da Maria di Norfi una buona giornata a tutti voi, ci ritroviamo domani, ripeto, se non ci sono grandi sorprese invece sul fronte procreativo che alla fine rimane sempre il primo fronte del popolo, della famiglia. Ciao a Gisella Aderraga.